Sei stato il capitano di questa finale vinta a Dublino, Europa League l'ha vinta l'Atalanta. Sì, sono strafelice per stasera, per tutti i ragazzi, i tifosi, la società, lo staff, penso che se la meritano tutti, penso più di tutti. Sì, oggi si fa festa, non so cosa dirvi, volevo solo dire alle aziende a Bergamo, lasciate libri quelli che lavorano, lasciateli festeggiare, così tornano un giorno dopo, lasciateli tranquilli, così stanno un po' a festeggiare. Grande vero a te Jim City, questa sera davvero una partita incredibile. L'Atalanta che ha fatto questo percorso in Europa League perdendo solo una partita, ininfluente peraltro con Liverpool dopo aver vinto 3-0 ad Anfield. Sì, un percorso straordinario, penso che si nota che oggi abbiamo meritato di vincere questa Europa League, perché comunque hai giocato contro la squadra che è stata più in forma, penso al mondo, che non ha perso 51 partite di file, se la meritava tutto questo finale, la Bundesliga. Poi oggi ha trovato un'Atalanta che, sì, diciamo che li ha asfaltati, perché oggi stavamo benissimo su tutti i paloni e non penso che hanno avuto occasioni tante. Poi abbiamo avuto un straordinario Luckman, che non so cosa ha mangiato oggi, però una tripletta non è mai successa in un finale di Europa League, poi gli do qualche cazzotto dopo. Charles de Ketelare, quant'è bella questa medaglia? Sì, sì, per me è quella dei campioni. Sì, per tutta la gente di Bergamo, sì, meravigliosa. Una finale perfetta, una partita questa con i campioni di Germania, perfetta. Sì, puoi dirlo, siamo al metà 2-0 e sì, primo tempo non abbiamo lasciato giocare, abbiamo prestato come, non so in parole, ma sì, bello, e la prestazione di Luckman anche, sì. Tutta la squadra, perché veramente avete fatto un percorso in Europa League incredibile. Come si diceva anche con l'allenatore, con i tuoi compagni, ne avete persa una con Liverpool, ma era ininfluente. Sì, è vero, sì, è un percorso meraviglioso. Sì, vincere non è facile e anche le squadre che abbiamo battuto a sport in campione di Portugal, Liverpool, squadra... Era in testa in campionato quando l'avete battuto. Sì, 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 e anche Marsiglia e adesso Liverpool, che abbiamo mai perso, non è così facile, abbiamo fatto un percorso.